Ma buonasera ragazzi! Cosa ci faccio qua? Oh sono in diretta! Ostia scusate! Buonasera! Ma come mai? Si è accesa la telecamera! Mamma mia! Che botta ragazzi! Qua gli stiamo facendo male alla Lotto Italia! Più parlo male di loro e più fanno uscire i miei numeri! Sarà un caso! Da dove partiamo? Lotto mio? Lotto mio! 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 Uè! Proprio ieri abbiamo centrato dall'Ootto mio del martidì, ambata, secca, semplice in seconda posizione determinata 37 a Torino! In seconda posizione! Ma noi avevamo Cagliari-Torino no? Ieri Torino e oggi colpisce la gemella Cagliari! 37 in seconda posizione determinata! Spaccata ieri a Torino il 37 in posizione e spaccato oggi a Cagliari il 37 in posizione! Mamma mia! Che botta! Lotto mio, Jacopo, Daniela, Cinzia, Elio Ferrara, Fulvio La Pera, preparatevi che vi arrivano una caterba di scontrini, eh! Voglio, non martedì perché non ce la fate, la prima pagina con scritto terzo e quarto colpo ambate in posizione determinata, prima a Torino e poi a Cagliari. Boom, 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 boom! Già vi devo mandare gli scontrini di ieri sera, tanto per cominciare. E adesso riaccendo il cellulare e scarico gli scontrini di oggi. Mazza che casino! Ma poi? Ambate in posizione e sapete che io sono una bomba atomica. E stasera cos'è successo? Previsione in collaborazione con Lotto Dani! Ciao Dani! Allora Lotto Dani, grande Dani, mi raccomando, a noi abbiamo centrato una grossissima vincita stasera, quindi saremo immersi e sommersi di scontrini. Ambo spaccato con ambate in posizione spaccata, sempre data dal sottoscritto. Allora, io e Lotto Dani abbiamo dato in collaborazione un bellissimo ambo secco, composto da una ruota, naturalmente copertura sempre nazionale, era Bari 234. Attenzione, Bari 234, copertura nazionale, il 34 dato dal sottoscritto in seconda e quarta posizione, e il 2 del nostro amico Lotto Dani, che tra l'altro l'altro ieri anche lui con me ha centrato il 2 in posizione determinata a nazionale, ma stasera cos'è uscito? Il 34 in seconda posizione determinata a nazionale, e il 2, ambo secco spaccato, 2 34 a nazionale, era una ruota, Bari, copertura nazionale, non dobbiamo più dirlo, ormai è in automatico chi gioca all'8, chi non sa giocare all'8 evidentemente non copre la nazionale, eh, che dobbiamo fare? 2 34, ambo secco, spaccato, nazionale, Lotto Dani dove sei? Esci pure tu sulla live, Dani mi raccomando, poi ci sentiamo in privato, gli scontrini che arrivano a te, me li giri a me, gli scontrini che arrivano a me, te li giro a te, eh sì perché noi dobbiamo pubblicarli sui nostri canali, giustamente le vincite le testimonianze, ragazzi mi raccomando, mandate le foto degli scontrini vincenti, le foto per cortesia, intere, non una sovrapposta all'altra, che non si vede la data, non si vede il codice, non si vede un tubo, intere le foto, 2 34, spaccato a nazionale, ambo in collaborazione con Lotto Dani, più ambatte in posizione 34, più l'altro giorno il 2 in posizione, una strage abbiamo fatto stasera, ma penso che può bastare, poi non ho guardato nient'altro, io penso che non sia successo più nulla, perché ho scritto l'estrazione, mentre scrivo l'estrazione, mi è venuto subito la nazionale, davanti ai miei occhi, faccio cazzo, 34 in posizione, porca miseria del 2, pensate che se qualcuno di voi ha giocato il 2 34 a Bari nazionale, mettendo il numero oro, che io sapete che sono contrario, avete vinto con 1 euro, 598 euro, saluto cazzo, faccio cazzo, va bene ragazzi, ricordatevi anche di me, non lo so, magari era un regalino, dai che sto scherzando, cazzo me ne frega a me, non ve l'ho mai chiesto, però chi vince bene, mi raccomando, pensatevi, insomma, voglio dire, il numero nazionale è fenomenale, tac, ragazzi, detto ciò, penso che non è uscito nient'altro, perché non ho guardato bene, ragazzi, perdonatemi, ho visto subito all'occhio, razionale, questa bellissima madre in posizione, Lambo secco, spancata a due numeri, e ho visto subito, ancora notto mio, stessa previsione che vi ho detto proprio ieri, cosa vi ho detto stamattina? Ieri è uscito il 37 a Torino in seconda posizione, vi ho detto stamattina, non si toglie Cagliari-Torino del giornale, stasera, pum, il 37, in seconda posizione a Cagliari. Chi dire? Boh, adesso posso pure togliere gli occhiali, ah no, minchia, rimettiamoli. Dai ragazzi, mandatemi le foto, io adesso sapete che faccio? Riaccendo il cellulare, perché un'oretta fa l'ho acceso per scaricare quelli di ieri. Adesso lo riaccendo, mi dovete massacrare di scontrini, ok? Un bacio a tutti. Ah, scusate, prima di fare il video io, perdonatemi. Scusate, eh, ocio, eh. Auguri a tutti, a tutti i vincitori che con Mimmo Nazionale hanno vinto anche stasera. Scusate se è poco, ma un bicchiere di vino me lo merito, per il mio impegno, almeno il bicchiere di vino me lo fate gustare, e che diamine! Che poi tra l'altro è negro a mano del Salento. Ma che vado giù, mi faccio una scorpacciata di vino, bello, buon vino e buon mangiare. Un bacio a tutti ragazzi, ciao!